Era questo il quadro? Ho visto che toglieva la matita dal buco Chi è che se ne ha accorto per prima? Uno dei custodi Io non ho fatto nulla Una cosa è proteggere un amico E un'altra è mentire per lui State cercando di dare la colpa a lui? Guardi come sei, è questo Secondo te è stato lui? Quindi Jacopo era l'unico ad avere una matita Ce l'avevamo tutti Simone ha detto la verità, sì Potevate dirmelo che almeno mi portava un avvocato, no? Lui e lei due Venerdì 20.50, Rai 1 Non ho fatto nulla, il buco c'era già!